La mia proposta di struttura didattica è questa, anche pensando a chi si collega, fare uno sforzo e fare insieme una frontale di due ore per completare il programma di ieri e il tema di oggi, in modo che poi alle 11.30 chi è in collegamento si scollega per tutta la giornata. Sì, però poi dalle 14 in poi io dedicherò l'intero pomeriggio all'esercitazione e invito veramente tutti a rimanere perché credo che sia utile, soprattutto sulla pianificazione. Chi va e chi resta? 11.20. E' semplice, chi resta otti la mano al pomeriggio, chi c'è otti il pomeriggio sulla mano. porta i bambini, porta i bambini, porta i bambini, mi li tengo io, tu porta i bambini che ci sto io, portali. Colleghi siete d'accordo se porta i bambini? scusate, Antonella, per te che non ti manda le 5 oggi? Non ho capito. No, no, facciamo a capirci. Scusate, 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 pausa, capiamoci. 15 minuti. Rita, tu bene, scusami, faccio un po' quello che mi fa? Allora, sì, un po' mi stacco, tu hai un lato destro? Vabbè, dai, ci arrangiamo con uno. Quando possiamo iniziare? Subito. Ok. Allora, mi date voi il tempo, eh. Antonio, se vuoi dare, però, questa indicazione allo scrivo. Sì, sì, certo. Buongiorno, ben ritrovati a tutti, all'aula presente e anche all'aula collegata in remoto. Ricominciamo il nostro percorso di formazione, qualche indicazione sui tempi della giornata, siamo un po' in ritardo, cercheremo di recuperare. Per esigenze logistiche, oggi termineremo la didattica frontale alle 13.30. La didattica frontale è anche, in particolare, la didattica perché si collega in streaming e dunque, per chi è collegato in remoto, l'attività formativa oggi si conclude alle 11.30. Cosa faremo in questo, nelle prossime due ore? Riprenderemo dei punti lasciati in sospeso ieri, sugli indicatori statistici. Velocemente vorrei passare in rassegna con voi i principali indicatori statistici di lettura di un contesto. E quindi passeremo al tema di oggi, al modulo formativo di oggi che è sulla pianificazione di progetto. I concetti generali della pianificazione che vedrete non sono concetti sociali. Scusate un secondo, abbiamo un piccolo problema tecnico. Perfetto, lo tengo sul tavolo, così non abbiamo problemi. Vedrete che i concetti che introdurremo sulla pianificazione di progetto non sono concetti proprietari del sociale. Sono concetti di pianificazione strategica di qualunque tipo di progetto. E quindi è una competenza abbastanza cross. Va bene, bando ai preamboli ed entriamo nel merito. Indicatori statistici. Ciò che vi presento adesso è veramente un'introduzione alle principali fonti informative che possiamo impiegare, possiamo costruirci anche autonomamente per costruire una prima lettura dei contesti. Questi indicatori non ci consentono di scendere nel dettaglio di analisi del problema specifico che abbiamo individuato, ci consentono però di, per esempio, compilare uno dei capitoli fondamentali in ogni progetto che è presentazione del contesto territoriale. Attraverso questi indicatori noi caratterizziamo essenzialmente il nostro target sociale, il nostro territorio, in qualche modo indicandone le caratteristiche strutturali più importanti. Quali sono questi indicatori? Sono gli indicatori di vecchiaia, gli indici di dipendenza, l'indice di struttura della popolazione attiva, l'indice di ricambio, i tassi di immigrazione, di natalità e di mortalità. Altri indicatori molto rilevanti, il cui calcolo per oggi non affronteremo perché è un calcolo complesso e sono già pronti, sono già disponibili online, sono gli indicatori economico-occupazionali, quindi il tasso di occupazione, di disoccupazione, di inoccupazione, ripartiti per classi di età. Una buona presentazione di un territorio deve dare delle indicazioni su queste dimensioni fondamentali. Non abbiamo la possibilità di farvi vedere i data warehouse, dove sono attingibili queste informazioni, però vi anticipavo ieri che abbiamo fatto clamorosi passi in avanti. Devo dire che negli ultimi tre anni c'è stata una proliferazione di data warehouse, cioè sostanzialmente spazi web, banche dati online in cui è possibile reperire queste informazioni e trattarle in modi più efficaci, nel senso che non avete soltanto la videata con le informazioni, ma avete la possibilità di estrarre direttamente tabelle Excel, avete la possibilità addirittura di formare direttamente grafici attraverso il sito. Le indicazioni di dove sono? Sì, adesso ve le do. Allora, i data warehouse più importanti, vi parlo di quelli italiani, non di quelli internazionali perché credo che la gran parte di voi si occupa di progettazione locale, sono dati.istat.it, poi inclusione sociale.istat.it, adesso vi caratterizzo, vi dico anche cosa c'è in ciascuno di questi, e demo.istat.it, sono tre importanti banche dati online. Dati.istat.it, non è www, è proprio http.dati.istat.it, inclusione sociale.istat.it e demo.istat.it. Partiamo da quello generale, che è dati.istat.it. In dati.istat.it sostanzialmente trovate tutto, cioè trovate i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione e dell'industria dei servizi 2011, che si è completata, quindi i dati cominciano ad essere depositati a completamento. Trovate dati disaggregati a livello di distretto comunale, cioè comune per comune. Purtroppo, lo dico per chi opera in contesti urbani più ampi, non trovate la disaggregazione a livello di, per esempio, circoscrizioni o municipi. Roma, per esempio, è ripartita in più municipi. Però, viceversa, per chi opera in contesti comunali, trovate la disaggregazione sul distretto comunale. Trovate i dati anagrafici di tutti i tipi, con la possibilità di segmentare e di estrarre le informazioni che a voi vi interessano per territorio, per classe di popolazione, cioè per classe anagrafica. Immaginate che vogliate sapere la popolazione in età 0-4 anni, avete una serie di flag spuntando i quali estraete direttamente quel segmento di popolazione. Per genere, per situazione familiare, avete una serie di opzioni per estrarre i dati anagrafici che vi interessano. Poi avete tutti i dati di natura socio, diciamo, relativi all'inclusione sociale. I dati estratti dal questionario multiscopo Istat, che è un questionario somministrato a base campionaria, quindi non al collettivo statistico generale della popolazione, ed è un questionario in cui si ottengono informazioni circa il tasso di partecipazione sociale attraverso una serie di indicatori, numero di relazioni, tempo dedicato alle relazioni, tempo che le persone impiegano a discutere di politica o di temi che eccedono la dimensione meramente privata. Partecipazione all'associazionismo, partecipazione al volontariato, informazioni, devo dire, piuttosto rilevanti perché vi danno l'immediata indicazione, appunto, della socialità delle persone su cui magari state in quel momento strutturando un progetto. Che altro troviamo? Troviamo su dati Istat, troviamo tutti i dati occupazionali. Non vi anticipo perché adesso vi dirò come si trattano i dati occupazionali, ma intanto vi dico che su dati.istat.it voi trovate la rilevazione trimestrale, che anzi adesso è diventata rilevazione mensile, cioè mensilmente, per una direttiva emanata da Eurostat, tutti gli istituti di statistica europei sono passati da una rilevazione campionaria trimestrale a una rilevazione mensile sul dato occupazionale, cioè sui tassi di disoccupazione, inoccupazione e occupazione. Vi dirò tra un pochino che cosa sono questi tre tassi perché sono diversi, a volte si fa anche un pochino di confusione. Li trovate anche questi ripartiti a livello provinciale fino al distretto provinciale e avete un monitoraggio molto costante dell'andamento quindi di questi indicatori fondamentali. Trovate tutta una serie di informazioni sempre su dati.istat.it su il censimento delle industrie, sul consolidato industriale, sulla popolazione industriale, sul tipo di distretti. Ecco, veramente diciamo che il problema di dati.istat.it è che è addirittura troppo ampio. Così ampio che hanno deciso di suddividerlo in altre data warehouse un po' più ristrette. Quindi avete inclusionesociale.istat.it in cui trovate sostanzialmente una disaggregazione delle informazioni provenienti dal questionario multiscopo istat. Quindi indicazioni sul tasto di socialità, sui servizi sociali e sanitari anche per specifici target. Per esempio, grandissimo tema, quanti sono i disabili in Italia? Non lo sa nessuno. Però ci sono delle vie indirette per dimensionare il fenomeno della disabilità. Per esempio si sa qual è la popolazione scolastica con disabilità. E lì trovate tutte queste informazioni disaggregate a livello, mi pare, almeno regionale. Ed è un indicatore importante per capire sicuramente sulla classe d'età, diciamo, 3-18 anni, qual è la numerosità proprio delle persone con disabilità e anche un'indicazione sulle macro categorie di disabilità, cognitivi, ritardi, disabilità motorie e via discorrendo. Trovate tutte le informazioni sulla socialità e sui servizi erogati sui territori. Poi abbiamo demo.istat.it che viceversa ha sostanzialmente non soltanto i dati del censimento, voi sapete che il censimento viene fatto ogni 10 anni, quindi questo è un momento propizio, nel senso che i dati del censimento istat sono i più autorevoli, per ovvie ragioni, perché è stato fatto da pochissimo tempo. Tra 6-7 anni i dati del censimento istat cominceranno a essere dati un po' obsoleti. Cosa si fa nell'interregno? Nell'interregno si possono utilizzare i dati anagrafici degli uffici anagrafici comunali, in cui abbiamo non soltanto la rappresentazione dello stato corrente, ma anche il saldo, cioè io comune per comune posso capire qual è il trend di crescita o decrescita della popolazione, il tasso di mortalità, il tasso di natalità, adesso ci serviamo e li vediamo uno per uno. Anche in questo caso i dati si estraggono facilmente con delle operazioni di flag, si possono direttamente esportare alle tabelle Excel. Io do per scontato che voi sappiate usare Excel, non possiamo fare un'esercitazione su Excel, ma io lo ritengo uno strumento... sì, bisogna impararlo. Varrebbe la pena fare un corso soltanto sull'Excel nel sociale. Sì, perché per il budgeting e per tante altre cose è uno strumento veramente utile, anche per le ricerche, cioè non si possono calcolare a mano delle variabili di tipo statistico. Intendiamoci, al nostro livello di competenza non facciamo elaborazioni complesse, facciamo delle sommatorie, però anche fare delle sommatorie non è possibile farle con con la calcolatrice, almeno non è possibile farle in modo economico. Va bene, detto questo, ah no, dimenticavo un altro Data Warehouse molto interessante, è un progetto nato, mi sembra, in partenariato tra il Ministero del Lavoro e Camere di Commercio, tutte le Camere di Commercio italiane, si chiama Progetto Excelsior, tipo albergo, diciamo, come l'albergo Excelsior. Che cosa trovate sul Progetto Excelsior? Basta che digitate su Google Progetto Excelsior o Excelsior e vedrete che viene fuori questo portale, perché è un portale, non è un Data Warehouse. Sul portale trovate una serie di informazioni, di proiezione molto spesso, circa i fabbisogni occupazionali delle imprese. Diciamo che il Progetto Excelsior nasce soprattutto non tanto per esigenze di ricerca, ma per fare proiezioni sugli interventi formativi e anche per i singoli cittadini per orientare il proprio progetto formativo. Se io so che il mio distretto industriale o il mio comparto in cui abito sta sviluppando un fabbisogno di persone con certe qualifiche orienterò un po' la mia formazione. Ovviamente trovate tutti i dati occupazionali, ma soprattutto trovate questa interessante proiezione annuale dei fabbisogni, delle esigenze delle aziende di occupazione per profili professionali. Troverete l'andamento stagionale e destagionalizzato e una maniera di altre informazioni vi invito a farvi una passeggiata sul portale. Avessimo la connessione internet per farvi vedere un po' di percorsi e rabbondi attraverso questi dati base, ma non lo abbiamo, quindi non possiamo farlo. E invece no, vado a farvi vedere le formule matematiche. Come state messi con la matematica? Chi vi parla viene da una formazione umanistica ed è uno che si è convertito all'algebra. Allora, l'indice di vecchiaia è molto banale. Come si calcola? Ovviamente è un indicatore dinamico che ci dice sostanzialmente la tendenza di un collettivo, di un collettivo demografico. E ci dice qual è l'incidenza, la proporzione tra persone anziane e persone giovani. Cioè non è l'incidenza delle persone anziane sull'intero collettivo, ma la proporzione tra giovani e anziani. Ecco perché è un indicatore dinamico, non è un indicatore statico. Cioè ci dice qual è la tendenza di un certo gruppo. E si calcola con questa semplice formula. Il totale della popolazione di età 65 anni e più fratto il totale della popolazione di età fino dai 0 ai 14 anni per 100. Ovviamente valori superiori a 100 indicano un collettivo anziano. Cioè non tanto anziano ora, ma che in prospettiva diventerà sempre più anziano. Ovviamente in Italia abbiamo valori molto elevati con delle variabili regionali interessanti. Presumo per esempio che qui il valore sia un pochino più basso rispetto ad altre aree. Indice di dipendenza. L'indice di dipendenza è un indicatore fondamentale di natura socio-economica in realtà. Ovviamente è molto utile fare per esempio previsioni sugli aspetti previdenziali e via discorrendo. Ci dice qual è la proporzione tra la popolazione in età attiva dal punto di vista lavorativo e la popolazione in età non attiva dal punto di vista lavorativo. Si considera attiva dal punto di vista lavorativo, che non vuol dire che lavora, vuol dire che è nelle condizioni di lavorare, la popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni. Si considera popolazione non attiva, cioè dipendente, dipendente da altri che lavorano per loro. La popolazione tra gli 0 e i 14 anni è tra i 65 e più anni. L'indice non è altro che il rapporto tra queste due sommatorie, tra queste due classi, per 100. Anche in questo caso, valori superiori al 100, indicano un collettivo potenzialmente squilibrato, un collettivo che ha un alto indice di dipendenza, è un collettivo in cui il numero di persone che producono reddito, che potenzialmente possono produrre reddito, e basso rispetto al numero di persone in situazioni di dipendenza economica. Ovviamente è molto grossolano l'indice di dipendenza. Si tratta di scendere un... Certo. Scusa. Indice di dipendenza. Sommatoria della popolazione in età 0,14 più popolazione 65 e più fratto popolazione dai 15 ai 64 anni per 100. Sono estremamente semplici da calcolare. Se vi fate la tabellina Excel, fate la somma di una classe, la somma dell'altra e li moltiplicate. Ci si può anche divertire un po', tutto sommato. Per esempio si possono fare dei confronti regionali interessanti. Cioè che cosa spesso è rilevante? Non tanto il dato assoluto del proprio territorio, ma il confronto del proprio territorio con altri territori, per marcarne soprattutto le caratteristiche pertinenti, rilevanti. Per esempio, io opero a Crispiano? Potrebbe essere interessante fare un confronto Crispiano-Martina Franca-Taranto, per vedere se il territorio di Crispiano ha delle peculiarità rispetto agli altri territori da un punto di vista demografico. Questo è sempre un ottimo modo per presentare, capite che siamo nella parte generale di presentazione del mio territorio, ma è un ottimo modo per presentare il mio territorio, direi guardate il mio territorio ha queste caratteristiche proprio rilevanti, pertinenti rispetto ad altri. Poi vi descriverò il problema che io individuo in quel determinato contesto. Andiamo avanti? Posso? Vi dicevo, l'indice di dipendenza è un indice veramente molto grossolano, si tratta di scendere un pochettino nella dinamica di questo indice e di capire com'è la struttura della popolazione attiva. Che cos'è la struttura della popolazione attiva? È sostanzialmente come la popolazione attiva al suo interno è composta. Questa classe, 15-64 anni, è fatta di gente che sta per entrare nel mondo del lavoro, potrebbe entrare o è già appena entrata nel mondo del lavoro e persone che ne stanno per uscire. Chi ha dai 15 ai 24, ai 29 anni è all'inizio, chi è vicino ai 64 sta per uscire. Se l'indice di struttura della popolazione è sbilanciato sulla classe vicina ai 64 anni, ho degli alert, ho una classe di popolazione che prima o poi genererà una crescita della dipendenza generale. Allora cos'è questo indice? nient'altro che il rapporto tra la popolazione tra i 40 e i 64 è il rapporto tra la popolazione tra i 15 e i 39 anni, sempre per cento. Posso andare avanti? Indice di ricambio. L'indice di ricambio è un ulteriore dettaglio. Non dovete calcolare tutti, spesso l'indice di dipendenza è sufficiente. Certo che se il vostro è un progetto di natura occupazionale, questi sono indicatori rilevanti. L'indice di ricambio mi dice il rapporto tra coloro che stanno per lasciare il mondo del lavoro a causa dell'età e coloro che invece si stanno proprio per entrare. Quindi considera soltanto le ultime due, cinque classi d'età. La popolazione tra i 60 e i 64 anni è la popolazione tra i 15 e i 19. Un indice molto sbilanciato, cioè superiore a 100, in questo caso mi dice che c'è un bassissimo ricambio di popolazione giovane che subentra nell'ambito dell'attività lavorativa. Prego. Ovviamente adesso le azioni di campo sono aumentate, perché c'è la legge nuova, i 66, i 70 anni. Beh no, si considera ancora i 65 anni come età lavorativa, perché poi sono molto diverse le situazioni pensionistiche, non c'è una data fissa. Dal punto di vista demografico ancora i 65 anni a livello di standard internazionale si considera un'età lavorativa. Poi ci sono situazioni diverse, anomale, c'è chi smette di lavorare prima, ci sono gli esodati naturalmente e situazioni sociali molto diverse. Però tenete conto che dal punto di vista demografico i standard sono internazionali, cioè bisogna potersi capire. Quindi questi indicatori sono utilizzati in Italia, come a Oslo, come in Africa. Piccola esperienza professionale. Paradossalmente trovo dati di cui non so stimare l'affidabilità, però dati più fitti e numerosi, per esempio sulla Tanzania. C'è il Bureau of Statistics, che sarebbe l'Istat tanzaniana, della Tanzania, che ogni tre anni per esempio fa delle ricerche campionari interessantissime sulla disabilità. C'è un censo campionario sulla disabilità che in Italia è irreperibile. Non abbiamo nessuna idea di quante siano le persone effettivamente con disabilità. Un po' perché è complicato in Italia dire che cosa è disabilità. Lì vanno un po' più con l'accetta. Però a volte per dare una dimensione va bene anche l'accetta, ecco, piuttosto che il niente. Indice di fecondità. L'indice di fecondità stima il rapporto tra il numero dei bambini nati, vivi, e il numero di donne in età feconda. Cioè sostanzialmente il rapporto che c'è tra donne che potenzialmente possono avere figli e bambini effettivamente nati. Anche in questo caso si moltiplica per 1000, non per 100, per avere un numero comunque compreso tra 0 e 150, 160, perché altrimenti andremo sui decimali. Si considera la popolazione femminina in età feconda tra i 15 e i 49 anni per standard. Anche in questo caso un indicatore superiore a 100 ci dà la misura di un basso indice di fecondità. In Italia ovviamente, in cui il numero di nati è basso, l'indice di fecondità è abbastanza elevato. Indice di carico di figli per donna feconda. Questo è interessante come indicatore se per esempio i nostri sono progetti di supporto familiare, di maternage, di accompagnamento alle famiglie. Ci interessa la situazione della donna al lavoro, oppure un progetto di conciliazione femminile, lavoro, cura dei figli. Allora è interessante capire qual è l'indice di carico di bambini per ogni donna. E come si stima? In maniera molto semplice. Popolazione tra i 0 e i 4 anni fratto popolazione tra i 15 e i 49 per 1000. Un collettivo che ha un indicatore di carico di figli per donna feconda elevato rappresenta una situazione in cui è verosimile che per ogni donna c'è un numero di bambini da accudire abbastanza significativo. Vado un po' veloce perché ve li voglio in realtà presentare e poi entrare nel modulo di oggi. Sì, in ogni caso voi tenete conto che queste diapositive poi saranno a vostra disposizione. Indice di natalità e di mortalità. Questo è in realtà un indicatore dinamico di saldo. Cioè ci dice qual è il trend della popolazione in termini di nuovi nati e deceduti. E' il rapporto, in questo caso numerico, tra i nati e la popolazione per 1000 e i morti e la popolazione totale per 1000. In Italia ovviamente abbiamo indici di natalità bassi e indici di mortalità sempre crescenti. Sapete che il trend generale statistico del collettivo italiano è orientato all'invecchiamento. Tra 50 anni si stima una situazione di forte squilibrio. In questo momento una istanza di riequilibrio è legato al flusso migratorio. Cioè il flusso migratorio sta mitigando alcune dinamiche particolarmente squilibrate dal punto di vista demografico. Non posso farvi vedere la piramide demografica ma tendenzialmente le piramide demografiche, cioè il rapporto tra diverse classi d'età nei paesi in vita di sviluppo sono piramidi. Cioè tantissimi bambini, base grande, base otorgata, si restringe verso i più anziani. In Italia siamo abbastanza vicini alla struttura romboidale tendenzialmente che rischia di diventare non più romboidale, cioè pochi anziani, molti nella classe 50, tra 40 e 60 e pochi nati, rischiamo di diventare una piramide rovesciata, cioè un cono. In realtà la popolazione, i flussi migratori mitigano questa dinamica. Indice di immigrazione ed emigrazione è semplicemente anche questo un indicatore di saldo della popolazione attiva e banalmente il numero degli immigrati nell'anno fratto la popolazione totale per 100. Indicazione per immigrato non si intende chi viene da altri paesi, poi bisognerebbe fare una ulteriore disaggregazione del dato che è possibile fare con dati Instat. Da un punto di vista anagrafico in un paese come Crispiano è immigrato, sono immigrato anche io, se vengo da Roma mi trasferisco qui. Quindi si tratta proprio di capire qual è il flusso della popolazione in un dato contesto. Se vogliamo capire il numero di immigrati da altri paesi europei non ce lo dobbiamo andare a prendere questo dato dal saldo anagrafico, ma dobbiamo andare su dati.istat.it oppure su demo.istat.it a prendere proprio la dinamica di immigrazione da altri paesi e lì troviamo immigrazione da altri paesi europei e l'immigrazione da altri paesi non europei. L'indice di immigrazione è semplice, il numero di immigrati fratto la popolazione totale per cento. Tassi di popolazione straniera. È diverso il tasso di popolazione straniera dall'indice di immigrazione perché l'indice di immigrazione, vi dicevo prima, è un dato dinamico, cioè vi dice che cosa è successo tra il 2011 e il 2012. Lo faccio un attimo rivedere. Il numero di immigrati in termini di saldo della popolazione. Viceversa un tasso è proprio la incidenza del numero di residenti stranieri sulla popolazione totale per cento. Ed è una, come dire, la differenza tra una specie di film in evoluzione, l'indice di immigrazione, e un'istantanea. Il tasso è un'istantanea, cioè in questo dato momento la popolazione straniera vale il 56%, ma dico una stupidaggia di qualunque genere, oscilla tra il lotto e il 14-15%. Ok, veniamo agli indicatori occupazionali. Tassi di occupazione, di inoccupazione e di disoccupazione. Su questi tre tassi c'è una bagarre politica infinita. Perché? Perché sono dati sensibili su cui molte parti politiche cercano di portare un pochino, visto che è una delle cose che hanno più impatto giornalistico, pensate che ogni mese quando c'è il comunicato stampa Istat, c'è la resta dei giornalisti, perché sono i dati che subito vanno sulla prima pagina del giornale. Allora c'è una forte pressione per portare i dati più favorevoli e si fa un pochino di confusione. Qual è la differenza tra tasso di disoccupazione e tasso di inoccupazione? Chi è considerato tecnicamente un disoccupato e chi tecnicamente un inoccupato? Per disoccupato si intende la popolazione in età lavorativa in fase di ricerca attiva di lavoro. Come si rilevano questi tassi? Non sono rilevazioni sull'universo statistico totale, cioè sarebbe costosissimo. Sono dati campionari, cioè mese per mese viene selezionato un campione nazionale distribuito e si fanno delle interviste, proprio dei questionari. Una delle prime domande è lei sta cercando lavoro? Se la risposta è sì e quella persona non lavora, quella persona è considerata una disoccupata. Se la persona dice no, non sto cercando lavoro, è inoccupata. Guardate che c'è una sfumatura molto importante, nel senso che questi dati ci dicono alcune cose, la disoccupazione ci dà una fotografia immediata delle dinamiche lavorative su un contesto, ma anche l'inoccupazione ci dice delle cose, cioè se cresce l'inoccupazione sul territorio, invece di restare costante, gli ultimi cinque anni sono stati anni di forte crescita non soltanto della disoccupazione, ma forse in modo ancora più preoccupante dell'inoccupazione, il dato vero è che c'è una larga parte della popolazione che ha perso speranza di trovare lavoro, che non lo sta cercando più o che ricorre ad altri spedienti e quindi cresce la dipendenza per esempio, perché ovviamente tutti quelli che sono inoccupati aumentano il numero dei dipendenti, dei dipendenti da chi produce reddito. Il tasso di occupazione è più semplice da comprendere. Il tasso di occupazione è l'incidenza della popolazione lavorante, cioè che è in situazione di inserimento lavorativo, sul totale della popolazione attiva. Ecco, si misura sempre, non sul collettivo, non sulla popolazione zero, cento e più, i tassi di occupazione, disoccupazione e inoccupazione si misurano sempre sulla popolazione attiva, cioè tra i 15 e i 64 anni. Naturalmente noi postiamo questi dati non ce li postiamo, mentre gli altri ce li possiamo fabbricare in casa, nel senso che accediamo alla banca dati, ci prendiamo la popolazione per tutte le classi d'età e quindi ci sommiamo, sottraghiamo, giochiamo. Su questi dati qui noi possiamo soltanto prendere quelli che ci sono, perché noi non siamo in grado di fare ricerche campionarie. Quello che possiamo fare è disaggregarli, perché sulle banche dati che vi citavo prima, su dati istat, noi possiamo fleggare gli indici di disoccupazione in occupazione e occupazione per territori e anche per classi d'età, che è molto interessante, cioè spesso a noi non ci interessa tanto sapere qual è il tasso di disoccupazione sull'intera classe d'età, ci interessa capire qual è il tasso di disoccupazione 15-29 anni, o 18-29 anni, o 18-24 anni, oppure il nostro è un progetto per i nuovi disoccupati, cioè quelli che hanno perso lavoro dopo i 50 anni, che sono un'emergenza sociale non trascurabile, allora ci interessa il tasso di disoccupazione e di inoccupazione 50-58 anni. Ecco, questo possiamo farlo, operando sui flag possiamo disaggregare per diverse classi d'età. ok? Ah ecco, bene, li avete. Questi sono gli indirizzi, eccelsorneuroncamere.net è la banca dati che vi citavo, piuttosto interessante. Vi segnalo come è piuttosto interessante se un giorno, ove mai un giorno volesse dedicarvi alla cooperazione e allo sviluppo, che su Google adesso ci sono una serie di strumenti di ricerca molto interessanti, per esempio questo, in cui sono pubblicati in modo aggregato con la possibilità di segmentare attraverso una serie di facili flag tutti i dati del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e dell'Ocse. Cioè, rapidamente voi riuscite di un territorio a trovare i dati sull'occupazione, l'inoccupazione, l'istruzione, indicatori sugli obiettivi di sviluppo del millennio, dati economici macro come il PIL, il PIL pro capite. Insomma, volendo oggi ci si può divertire molto di più di quanto non succedesse dieci anni fa. Io l'ho visto evolvere questo sistema. Mi ricordo quando ho cominciato a fare progettazione 15 anni fa ed ero dipendente da uno scopiazzamento, da altre fonti, cercare l'articolo di giornale. Oggi veramente abbiamo la possibilità di fare un minimo di analisi tutti quanti, perché questi dati ce li abbiamo abbastanza facilmente a disposizione. Bene, chiuderei questa parte e invece entrerei velocemente nel modulo di oggi. Scusa? Scusa, scusa, scusa. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. l'anno corrente 2013 se state utilizzando dati del censimento 2011 metterete elaborazione su dati censimento istat 2011 e finisce lì se viceversa utilizzate dei dati già strutturati per esempio copiato una tabella che è già pronta in quel caso metterete dati istat due punti e l'anno di riferimento e questo credere utilizzate per qualunque altro trattamento di dato statistico è sempre utile marcare se voi avete elaborato in proprio dei dati o se li avete presi di peso già elaborati da qualche altro istituto di ricerca posso andare avanti perché io direi che io intanto vi chiedo il conforto dell'ora 10.08 bene allora abbiamo un'oretta e 20 da dedicare al modulo di oggi che è pianificazione e schedulazione di progetto di cosa parliamo oggi di un sacco di parolacce inglesi purtroppo non vi posso dispensare oggi parliamo di work breakdown structure detta vbs di rappresentazione del piano di attività attraverso strumenti di pianificazione di fatto non soltanto sociale ma di pianificazione to cure che sono i gant qualcuno di voi ha mai utilizzato dei grafici di gant sapete cosa sono va bene allora risulterò clamorosamente originale questo mi fa piacere e grafici di perte e grafici di perte e parleremo anche di analisi di percorsi critici e di tempi di slack slack adesso vi spieghiamo passo per passo di che cosa andiamo a trattare che cosa alla fine di queste due rette mi auguro che sia un po travasato avremo intanto imparato a utilizzare o perlomeno a reperire dei software open source che ci possono aiutare vi darò un po di indicazioni su dei software per fare pianificazione per costruire dei gant impareremo a pianificare le nostre attività impareremo a introdurre nella pianificazione della nostra attività dei rigorosi criteri di controllo dei tempi e quindi anche dei costi ricordiamoci sempre che i tempi sono una funzione di costo chiunque abbia affrontato non so se qualcuno è mai lavorato nell'edilizia chi lavora nell'edilizia sa che sforare di un giorno significa aumentare i costi ma questo è vero anche per noi un progetto che dura un mese in più tendenzialmente produce costi in più non previsti non inseriti nel budget poiché i nostri budget sono rigidi cioè non possiamo andare normalmente dal nostro finanziatore a rinegoziare come a volte anche in ambito di pubblico appalto si fa i fondi che ci sono stati concessi il controllo dei tempi è un tema fondamentale strategico di anche controllo di gestione economica finanziaria tutte le organizzazioni non soltanto noi hanno necessità decidere come vogliono arrivare a determinati risultati oggi noi non dobbiamo fare nient'altro che ripartire dal lavoro di ieri ieri ci siamo detti come individuare degli obiettivi come definire dei risultati oggi dobbiamo capire qual è il percorso più logico per arrivare a dei risultati cioè come strutturiamo delle attività che siano funzionali a produrre questi risultati perché questo succede noi non possiamo prescindere da un buon lavoro di pianificazione ora la pianificazione in realtà può essere anche un tema di larghissima scala ci sono delle organizzazioni sia in ambito non profit che in ambito profit che adottano questi strumenti non soltanto per il singolo progetto ma per pianificare l'intera struttura dell'attività dell'anno per esempio è tipico questo delle strutture che lavorano per progetti cioè che operano soltanto per progetti in cui il progetto è una sottocomponente di una pianificazione più generale oppure la pianificazione può intervenire su piccola scala sul segmento più circoscritto che è il progetto noi oggi lavoreremo sulla piccola scala sul segmento che è il progetto ma ricordiamoci sempre che il nostro progetto con i suoi vincoli interni galleggia in uno spazio organizzativo più ampio che quello della nostra associazione quindi i vincoli che noi inseriamo nel progetto sono i vincoli che si scaricano sull'ambiente organizzativo più ampio e potrebbero collidere con altri vincoli che dobbiamo sempre tenere presente per esempio se la nostra organizzazione ha nel stesso periodo altri progetti in corso il modo in cui io allocherò cioè metterò su ogni attività determinate persone le risorse sarà un modo vincolato cioè devo ottenere conto degli altri impegni correnti ovviamente ve lo anticipavo la pianificazione parte dall'analisi del contesto non può prescinderne se noi non abbiamo ben chiari quelli che sono i nostri risultati attesi noi non potremo fare nessuna efficace pianificazione lo faccio un attimino vedere in lavagna noi ci siamo detti ieri che la struttura logica di un nostro progetto potrebbe essere così un obiettivo un obiettivo che è raggiunto perché sono dati determinati risultati facciamo un esempio molto 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 semplice che tra l'altro un po' vi presenterò immaginate che il mio sia il progetto di start up di una casa famiglia per persone con disabilità adulte allora il mio obiettivo molto molto concreto è rispondere al bisogno del dopo di noi di un gruppo di famiglie presenti sul territorio quali sono i miei risultati avrò dei risultati immediati cioè costituire una cooperativa sociale che gestisca questa casa famiglia quindi costituire cooperativa adeguare da un punto di vista proprio di strutture di strutture murale di strutture fisiche la casa famiglia quindi adeguamento casa famiglia ci avrò un risultato che sarà autorizzazione al funzionamento di quella casa famiglia io scrivo male mi dovete perdonare c'è una pessima caligrafia ci avrò non lo scrivo qui convenzione con la struttura sociale competente o gli uffici sociali competenti del servizio per garantire l'approvvigionamento finanziario costante ci avrò formazione dell'equipe e altri risultati ciascuno di questi risultati si porta dietro un flusso di attività cioè di step logici progressivi in un percorso come dire lineare che si devono succedere per arrivare qui dovrò fare A poi B poi C poi magari D ed E insieme in parallelo per arrivare a questo risultato e così via in realtà sotto ogni risultato io potrei avere dei risultati intermedi per esempio adeguamento casa famiglia io avrò un aspetto che potrebbe essere di natura strettamente come dire di opere civili quindi collaudo collaudo delle opere potrebbe avere un aspetto che è ammobiliamento della casa famiglia ok? collaudo e ammobiliamento sono due risultati intermedi non solo risultato finale tecnicamente li si potrebbero chiamare milestone milestone in inglese milestone che cosa sono le milestone? gli inglesi che in fondo devono tutto a noi italiani utilizzano una parola latina le milestone sono le pietre miliari cioè sono degli indicatori di passo degli indicatori di processo che mi dicono che io sto andando verso il mio risultato atteso d'accordo? e in realtà ce l'ho in ciascuno dei risultati una o più milestone una o più pietre miliari che mi dicono se sto andando nella direzione desiderata cioè dei risultati di conseguimenti intermedi particolarmente rilevanti che mi indicano il processo generale se sto andando verso il risultato e quindi verso l'obiettivo io devo difendere moltissimo quando gestisco il progetto questo livello nella gestione di progetto il gestore di progetto ci tengo a dirvi che noi non siamo scrittori di progetti noi siamo persone che si occupano di disegno e di gestione dell'intervento noi difendiamo moltissimo i risultati dobbiamo concentrare il 70% delle nostre energie per difendere questi risultati se abbiamo fatto un buon lavoro di analisi perché se difendiamo i risultati raggiungiamo l'obiettivo ma dobbiamo ben identificare quali sono i risultati da raggiungere noi ci focalizziamo sempre e troppo sulle attività ovvero abbiamo una proiezione fortissima pensiamo che il progetto sia fare delle attività il progetto in realtà è ottenere dei risultati le attività sono strumentali al raggiungimento dei risultati e guardate che questa io penso che oggi verrà fuori anche nell'esercitazione questa oscillazione la vediamo anche a volte a livello di disegno e intervento quante volte nei nostri progetti ci capita che definiamo per obiettivo quella che è un'ottività obiettivo fare un centro giovani fare un centro giovani non è un obiettivo è un'attività al limite può essere un risultato ma molto spesso noi confondiamo l'obiettivo per il risultato e il risultato per l'attività fare educazione peer to peer è un'attività serve serve per raggiungere il risultato che serve per conseguire un obiettivo quindi il messaggio è io non posso fare pianificazione se non ho una chiarissima identificazione di quelli che sono i miei precisi e distinti risultati che cos'è la pianificazione? è il lavoro di disegno di ideazione del processo del percorso logico e anche il lavoro di manutenzione così come il quadro logico anche gli strumenti di cui adesso parleremo sono strumenti di disegno di intervento e di monitoraggio di intervento cioè noi facciamo una prima pianificazione che poi aggiustiamo in corso d'opera facendo continuo monitoraggio quindi il mantenimento del piano include la creazione quello che facciamo quando scriviamo il nostro progetto che poi presenteremo al nostro committente la sua implementazione e il suo controllo il suo monitoraggio vediamo un po' di parole che in realtà vi ho già anticipato milestone indica un traguardo intermedio importante nello svolgimento del progetto molto spesso coincide con un evento con tempo zero per esempio inaugurazione della casa famiglia quanti volte nei nostri progetti ci sta un evento intermedio per esempio incontro con i genitori oppure inaugurazione di quel dato servizio oppure pensate un progetto che fondamentalmente è una campagna un incontro con degli stakeholder particolarmente importante quelle sono milestone cioè quelle particolari tappe del nostro processo che rappresentano il conseguimento di risultati intermedi di solito noi dobbiamo identificare quelle che sono le nostre milestone perché a un livello intermedio sono le tappe da difendere cioè ci dicono per esempio se siamo in ritardo oppure no non è molto rilevante sapere se una certa attività che incide poco sul progetto è in ritardo è rilevante sapere se è in ritardo il raggiungimento delle mie pietre miliari perché sappiamo che quelle sono le tappe fondamentali per arrivare a meta per arrivare dove voglio arrivare esempi firma di un contratto un collaudo la consegna di uno stato di avanzamento del lavoro l'inaugurazione eccetera 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 deliverable ne abbiamo parlato ieri lo abbiamo anticipato a questa parola ci torniamo oggi i deliverable sono ciò che materialmente un flusso di attività produce noi dobbiamo sempre immaginare con rozza metafora che un flusso di attività sia una routine di cose di tappe in cui c'è la dico proprio in termini veramente grossolani di processo quasi industriale in cui c'è un input cioè delle risorse che vengono immesse professionali, conoscenze risorse economiche e c'è sempre però anche una ci deve essere sempre un output cioè questo ciclo produttivo chiamiamolo così deve produrre un qualcosa che viene consegnato a qualcuno ebbene è molto bene identificare chi è questo qualcuno a cui viene consegnato il risultato ma è ancora più importante identificare che cosa viene consegnato chi è questo qualcuno non sempre i risultati intermedi di un progetto sono i risultati che vengono dati alla collettività o al committente o ai beneficiari a volte il deliverable di un piccolo pacchetto di attività è una specie di input per un processo successivo cioè immaginate che io stia appunto lavorando per costituire una casa famiglia allora non so come funzionano da voi le procedure autorizzative non credo in maniera molto diversa nel mio ambito se io voglio autorizzare un servizio dovrò produrre una serie di atti per esempio dovrò produrre un progetto globale del servizio realizzare il progetto globale del servizio è un milestone un deliverable che è anche uno milestone cioè mi dice che ho raggiunto una tappa importante che io consegnerò ai miei colleghi che si occupano della fase successiva cioè dell'autorizzazione della procedura amministrativa attraverso la quale otterrò OPS e carta l'autorizzazione e il funzionamento col quale potrò inaugurare il mio servizio in questo caso il qualcuno a cui viene consegnato qualcosa sono io stesso io staff di progetto o meglio i miei colleghi che si occupano di un'altra fase altra fase per la quale il mio conseguimento è una tappa è un input è una condizione preliminare se io non ho fatto il mio lavoro loro non possono fare il loro e veniamo alla nostra parolaccia della giornata work breakdown structure scomposizione gerarchica del lavoro che cos'è? è sostanzialmente la scomposizione di tutta la manfrina che faremo nel nostro progetto in pacchetti di lavoro attività e sottoattività più identificate definizione presa di peso dal project management body of knowledge che è definito la summa di tutto il sapere accumulato in ambito di project management dal project management institute lo definiscono così un raggruppamento degli elementi del progetto orientato alle componenti della fornitura non vi spaventate che organizza e definisce l'obiettivo globale del progetto proviamo a decriptare questa definizione un po' oscura però molto pregnante dal mio punto di vista un raggruppamento degli elementi gli elementi in termini di tenete conto che project manager tendenzialmente sono ingegneri spesso ingegneri gestionali come dicevamo ieri gli elementi del progetto sono le attività sostanzialmente e le risorse quindi che cos'è una WBS un raggruppamento di questi sotto elementi orientata alle componenti della fornitura cioè deliverable ai risultati che organizza e definisce l'obiettivo globale del progetto quindi quelle attività che è necessario sviluppare per ottenere i risultati che maturano l'obiettivo questa non è una definizione sociale è una definizione di project management più di ambito aziendale vedete che però non è molto diverso alla fine forse a volte i nostri risultati sono più intangibili ma il processo non è necessariamente molto diverso ciascun livello discendente sottodimensionato rappresenta una definizione più di dettaglio della mia componente di progetto le componenti del progetto possono essere prodotti cioè risultati concreti o servizi che ho realizzato per appunto il mio intero team di lavoro la VBS cioè la Work Breakdown Structure è il documento chiave nella gestione di progetto io ai miei colleghi potrò anche non dargli il mio piloto il mio documento che serve a essenzialmente a presentare il progetto globalmente a ottenere l'approvazione però dovrò dargli una chiara anche le mie due o tre paginette di VBS gliele dovrò dare non ci scordiamo mai che la gestione di progetto soprattutto nei nostri contesti normalmente è un lavoro gruppale cioè difficilmente noi gestiamo il progetto in modo monocratico e meno male ci divertiremo molto poco in genere noi abbiamo una gestione di gruppo una gestione di gruppo richiede alcuni requisiti per esempio una forte standardizzazione delle informazioni non posso dirgli le cose al telefono poi gli mando una mail poi gli dico un pezzo un altro pezzo gli dico un giorno dopo quando parte il progetto si presuppone che io faccia una riunione di progetto e che consegni una documentazione abbastanza chiara semplice in cui presento la VBS cioè questo è il piano dell'opera questo è quello che faremo questo è il flusso di attività perché così ciascuno è confortato nel sapere qual è il disegno generale e qual è il suo pezzetto capisce come dire mettete progetti in cui ci sono dei compiti anche un po' faticosi un po' rognosi c'è anche un aspetto psicologico se volete la conoscete la metafora della cattedrale e dello spaccapietre? allora è carina c'è un ci sono due spaccapietre che spaccano pietre tutto il giorno con un martello pesantissimo uno proprio imprega sputa è rabbioso e l'altro invece zuffola felice fischietta rompe ritmicamente le pietre a un passante si è vicina dice ma come mai questi due stanno facendo il medesimo lavoro uno bestemmia continuamente imprega e l'altro viceversa proprio esprime serenità amore per il suo lavoro ritmicità metodo ah si avvicina il primo e dice io provo a chiederglielo si avvicina il primo quello che impregava e dice ma lei che lavoro sta facendo quello giustamente incacchiato gli dice ma come che lavoro sto facendo non lo vedi sto spaccando pietre va dal secondo e gli dice e lei che cosa sta facendo e risponde e come che sto facendo sto costruendo una cattedrale sono due visioni ovviamente insomma in realtà noi siamo polari a volte ci sentiamo spaccati dietro a volte ci sentiamo architetti di cattedrale in effetti non siamo quasi mai nell'uno nell'altro però la visione che ciascualunque cosa qualcuno stesse facendo in un progetto una buona comunicazione di progetto serve anche a far sentire che tutti lavoriamo per costruire una cattedrale indipendentemente dal compito che stiamo facendo questo è come dire nota non tecnica ma più di gestione di gruppo quindi è un quadro di riferimento ed è l'elemento più critico per la definizione dei tempi e del budget di progetto domani parleremo dei sordi come vi anticipavo non possiamo fare nessuna pianificazione finanziaria se non abbiamo una chiara identificazione nella VBS delle nostre attività perché perché ciascuna sottocomponente di attività produce determinati costi fare delle ristrutturazioni produce tempi e produce costi ogni sottocomponente assorbe risorse umane costi esterni risorse strumentali costi indiretti e noi dobbiamo questo lo facciamo domani dimensionare il nostro costo a livello di singola sottocomponente cioè non ci basta dire ma il progetto vale costa 200 mila euro ci interessa sapere quanto una singola sottottività ci costa facciamo una fuga in avanti rispetto a domani che è un po' di più di quello che normalmente anche in questo caso ci viene chiesto in genere ci viene chiesto il capitolato di progetto cioè una disaggregazione dei costi per tipologia di spesa tendenzialmente costo del lavoro e va bene questo però non ci dà una misura dell'andamento della spesa cioè quanto io spenderò per ciascuna attività che ha una sua collocazione temporale quindi per esempio se io non ho un lavoro di questo genere non potrò fare pianificazione finanziaria che non vuol dire sapere quanto costa il progetto ma conoscerne i flussi di cassa cioè come va la spesa nel periodo in cui io sto gestendo l'attività vabbè di questo parliamo domani come è fatta la nostra VBS chi di voi si è barca menata con tesi ricerche o documenti un pochino strutturati avrà imparato a comporre degli indici come sono fatti gli indici delle nostre tesi sono fatti per capitoli paragrafi sotto paragrafi a volte sotto sotto paragrafi un metodo abbastanza standardizzato è utilizzare i numeri quindi 1.0 introduzione 1.1 sotto capitolo 1.1.1 1.1.2 eccetera eccetera bene la VBS è fatta esattamente nel medesimo modo un primo livello coincide con una macroattività che potrebbe essere prendiamo il nostro esempio costituzione della cooperativa sociale allora è la macro categorizzazione è la fase di progetto cioè una fase di progetto che dura dal mese x al mese y che si chiama costituzione cooperativa sociale dentro costituzione cooperativa sociale io in realtà non posso accontentarmi di questa genericità devo scomporre a livello inferiore di attività avrò per esempio reclutamento e ingaggio dei soci cioè dovrò trovare dei soci che vogliono costituire con me la cooperativa se non li ho già in partenza magari avrò uno zoccolo duro di soci ma vorrò un po' allargare la mia base sociale quindi avrò 1.1 dentro il reclutamento soci in realtà potrebbe avere delle sottofasi perché non è con un colpo di cannone che raggiungo il risultato prego sarebbe forse ecco sente sì sarebbe forse il caso di indicare esempio F1 e poi R1 A1 A2 A3 rispetto a fase 1 per essere più chiari ancora in questa schematizzazione no lo standard in genere numerico non è F non è alfanumerico in genere numerico fase 2 quindi sarebbe F2 quindi attività A2 A3 A4 così via A2.2 A2.3 così via e poi R2.2 risultati attesi corrispondenti alle varie attività per essere ancora più per facilitare quindi o soltanto numerico dici tu allora ma guarda in realtà purché sia chiaro indipendentemente dal metodo di rappresentazione possiamo esprimerci come vogliamo purché sia chiaro io preferisco attenermi a uno standard ok allo standard di tipo numerico poi mi capita non lo so mi occupo di progettazione del servizio civile loro hanno una struttura estremamente rigida vogliono le cose messe in un determinato modo io gliele metto in un determinato modo gli raggruppo le attività per risultato per esempio tipicamente il che tutto sommato è anche logicamente giusto quindi magari faccio come dici tu risultato 1 attività era il gruppo in quel modo mi adatto plasticamente un po' al contesto di come dire elaborazione documentale in generale lo standard in questo caso diciamo che lo standard è del Project Management Institute il Body of Knowledge il BOC famoso del Project Management Institute indica questo tipo di struttura adesso vi spiego anche perché il primo livello indicato come 1.0 perché questa convenzione ci permette di sapere che ogni attività è relativa a quel progetto cioè questo è uno standard che mi consente di come dire fare pianificazione di progetto in un contesto in cui io ho altri progetti allora io potrei fare il progetto 1 costituzione casa famiglia il progetto 2 e avere quindi una sotto indicizzazione numerica questo devo dire a noi succede molto di rato però in contesti molto articolati per avere una scomposizione dell'attività efficace rispetto all'intero ambiente organizzativo io posso numerare non soltanto l'attività ma i progetti e quindi avrò tutto un flusso d'attività che sarà diciamo della matrice numerica 1 della matrice numerica 2 della matrice numerica 3 e via discorrendo ovviamente il livello 1.0 2.0 quello che è non è quasi mai il più basso cioè non possiamo mai accontentarci di una fase di descrivere una fase genericamente intesa come costituzione casa famiglia costituzione cooperativa avrò bisogno di sotto scomporre il secondo livello ha la medesima cifra dal punto decimale rimetto il microfono sulla scrivania altrimenti altrimenti faccio un po' di casino e e così via andrò sotto scomponendo terzo livello successivo stesse prime due serie di cifre un punto decimale e via e via discorrendo fino a che livello scompongo finché è necessario andiamo un attimino a vedere sì sicuramente fino a quanto è necessario diciamo che c'è un criterio a cosa ci serve la VBS la VBS ci serve ad avere una mappa un orientamento una bussola nella gestione dell'attività standardizzata e condivisa con l'intero mio gruppo di lavoro e con il mio committente che deve sapere cosa faccio è una bussola deve avere quel giusto equilibrio tra il dettaglio cioè deve arrivare ad un adeguato grado di specificità ma non deve essere neanche una gabbia che dice a me stesso ai miei colleghi al committente quando dovevo muovere il piede destro e quando dovevo muovere il piede sinistro lo standard normalmente è questo i work package cioè i pacchetti di attività tipo costituire una casa famiglia dovrebbero avere essere disaggregati a un livello di 200-300 ore uomo equivalenti che non significa che c'è una sola persona che lavora per 300 ore magari ho 5 o 10 persone che lavorano 10 ore ciascuno anzi in questo caso 300 diviso 10 30 ore ciascuno domanda? ok le attività vanno scomposte fino a un lavoro a un effort cioè uno sforzo organizzativo equivalente a una settimana uomo 40 nel nostro caso 38 ore perché i nostri contratti normalmente sono per 38 ore quindi c'è un quantificatore di disaggregazione di scomposizione che è di questo tipo abbastanza di indicazione proprio numerica difficilmente è necessario che io scomponga al di sotto di un effort organizzativo di una settimana d'altra parte non posso attestarmi su una pura definizione dei pacchetti dei pacchetti di lavoro cosa vuol dire? se il lavoro di costituzione di una cooperativa è un pacchetto d'attività che in realtà eccede uno sforzo organizzativo misurabile sulle due o trecento ore uomo di lavoro verosimilmente non sono in presenza di un unico pacchetto d'attività forse sono in presenza di due pacchetti d'attività e allora forse vale la pena che li marco che li identifico li disaggrego allora c'è un pacchetto che potrebbe essere costruzione della compagine dei soci e mera attività di costituzione legale quindi rogido adempimenti successivi iscrizione al registro regionale delle cooperative sociali e via discorrendo perché così ho più identificazione delle mie attività stesso discorso lo faccio per le mie attività e sottoattività se mi accorgo che una sottoattività in realtà eccede le 40 ore uomo di lavoro verosimilmente sono in presenza di una finta sottoattività sono in presenza di un gruppo almeno di due o più sottoattività da identificare capite che questo lavoro anche questo se volete un po' impegnativo però ci dà dei grandi vantaggi perché ci dà un'estrema identificazione e capacità di governare il nostro progetto il guaio peggiore di alcuni nostri progetti anche quando ci vengono approvati è che poi sono ingovernabili o sono difficilmente governabili voi capite che tutto quello che vi sto dicendo è finalizzato sì a scrivere dei buoni documenti progettuali che abbiano maggiori chance di successo ma è soprattutto finalizzato al fatto che come dire dopo che vi hanno approvato il progetto e che giustamente vi siete ubriacati con i vostri colleghi il giorno dopo non siate disperati ecco prego la governabilità di un progetto dipende anche da quanto noi siamo stati bravi ad assegnare le ore uomo perché io posso sovrastimare in ore un'attività che in realtà ne vale molto meno sì quindi ciò ci compromette la buona gestione di un progetto assolutamente sì è difficile che ci pigli subito che ci azzecchia al primo colpo è difficile in generale che nel disegno del progetto tu sia rigorosissima è molto questione di monitoraggio di progetto cioè il monitoraggio di progetto è un elemento di gestione fondamentale non è un adempimento non è una parte che noi mettiamo nei nostri documenti per fare buona figura col valutatore è una struttura di gestione e va fatto con un certo rigore insomma Aldo? un esempio ancora pratico sulle attività veramente al volo se ad esempio in un progettino di quelli molto pro social che facciamo cioè la festa finale di una determinata fase questo discorso dell'organizzazione del giorno in cui ci sarà questo evento questa festa quella merita che diventi una fase un'attività per esempio è chiaro che quella giornata durerà magari soltanto tre ore devo sommare anche tutto il lavoro dietro le quinte che c'è stato nelle giornate precedenti di più persone che hanno organizzato e hanno portato poi ad avere 30 persone in una sala per fare questo evento che durerà appena tre ore o no è abbastanza chiaro come domanda sì e no nel senso che dipende molto da quanto effort cioè in realtà la pianificazione del progetto non è un'esigenza filosofica è un'esigenza pragmatica si tratta di rappresentare ciò che si porta dietro un effort organizzativo uno sforzo organizzativo se per organizzare quel tuo evento di tre ore c'è uno sbattone di lavoro consistente tu dovrai pianificarlo se è un'operazione snellissima magari rutinaria magari tu già hai tutti i contatti insomma è una cosa che risolvi in un mezzo pomeriggio beh no allora evidentemente magari è promozione festa realizzazione festa ma dipende proprio dalla stima che tu fai che solamente tu puoi conoscere del tuo effort nessuno sa dire è come nel mio lavoro no? cioè certe cose per me sono e a volte mi accorgo che è complicato sono semplici perché le faccio da talmente tanto tempo che il mio sforzo è molto basso per realizzarle quello che per me come dire è molto basso come sforzo realizzativo è molto alto per altri e questo è vero per ciascuna delle nostre organizzazioni su certi temi siamo estremamente rodati su altri no io Aldo direi come indicazione cioè nella VBS è fondamentale a tenersi a un criterio di stima dello sforzo organizzativo quindi andiamo a scomporre dove abbiamo forte sensazione di uno sforzo organizzativo maggiore di quello che pensiamo non tanto un'esigenza logica ma un'esigenza pragmatica scusate quest'anno il servizio centrale ha pubblicato il bando per i centri di accoglienza SPRAR e il modulo il formulario era cambiato rispetto a tre anni fa per ogni area c'erano le attività da svolgere nel formulario e sotto erano richiesti i risultati attesi e le risorse che si intendevano cioè per noi ottimo che c'eravamo scordati la pianificazione fatta un po' di anni fa a Bari con gli altri ci sembrava oddio come lo stanno complicando era molto più semplice le altre volte poche aree di intervento e poi il piano economico invece in effetti stava rispondendo a questa necessità che evidentemente hanno anche rilevato la mancata pianificazione nei progetti anche del lavoro poi fra gli operatori e volevo che tu mi ridessi un po' di attenzione su quella cosa che hai detto quando un monteore è troppo alto vuol dire che cioè se mi chiarisci meglio questa cosa perché noi le ore le abbiamo distribuite facendo un conteggio settimanale sugli operatori però non abbiamo utilizzato proprio un criterio molto diciamo ragionato rigoroso vorrei capire a me cioè avete fatto una ripartizione aritmetica tendenzialmente dicendo gli operatori lavorano 20% ma sai il problema è capire cioè su un progetto è facile capirlo su una cosa che non è un vero e proprio progetto è più difficile intendo dire se io ho ben chiaro che cosa devo fare sai qual è il nostro problema che spesso non abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare o meglio l'abbiamo chiaro soltanto un po' a chiacchiere ed è normale ragazzi non è che insomma io ogni volta che devo fare un progetto di copertazione lo sviluppo in un paese nuovo ma un pochino mi metto le mani nei capelli perché che ne so è ovvio che il mio disegno di intervento come dire si sforzerà di sembrare estremamente chiaro identificato ma io lo so che in realtà mi muovo sull'ignoto non ci deve sconvolgere questo ci deve poi in fase di gestione di progetto spingere ad archiviare sempre più un'informazione ben documentata nel tuo caso lo sforzo che dovresti fare è per sotto pacchetto di attività diciamo per pacchetto di attività avere una chiara identificazione dei risultati che tu devi raggiungere e dello sforzo organizzativo necessario perché non tutti i pacchetti di attività saranno uguali alcuni pacchetti assorbiranno di più altri assorbiranno di meno altri assorbiranno risorse di un certo tipo altri di altro che ne so adesso lo vedremo con un po' di esempi in alcuni pacchetti di attività tu c'hai soltanto lavoro interno quindi c'hai soltanto l'ora uomo di lavoro da allocare moltiplicato per il numero di ore in altri pacchetti di attività tu c'hai una serie di forniture esterne e quindi c'hai dei costi esterni oltre che interni adesso devo necessariamente anticipare dei temi che tratteremo domani è chiaro che io per fare un calcolo dei costi su ogni fase ho bisogno di valori unitari per esempio devo stimare bene il costo orario della mia risorsa quanto mi costa il mio psicologo o quanto o quanto costo io che oltre a essere il progettista sono anche lo psicologo cioè qual è il costo azienda del mio lavoro devo arrivare al valore unitario cioè il costo azienda orario delle figure che inserisco nel mio progetto quando ho questo valore unitario dirò in questa attività io ho bisogno che un psicologo mi lavori 20 ore non farò altro che moltiplicare il valore orario per 20 e otterrò come dire il costo assorbito da quell'attività relativa a quella figura se quel pacchetto di lavoro o quell'attività si porta dietro un costo esterno una fornitura per esempio una docenza tipicamente io faccio un percorso formativo parte della formazione la farò con i miei membri col mio staff parte chiamerò un docente esterno e lì è abbastanza semplice quanto costa il docente esterno che è un costo esterno soltanto di quell'attività sarà un costo di quella fase non di tutto il progetto non so se ho risposto comunque vedrete che sul tema dei costi ci torniamo spero abbastanza analiticamente domani posso? prego proprio inerente a questo volevo chiedere quindi io dove posso prendere queste risorse informative inerenti ai costi cioè se a me mi serve un assistente sociale per 20 ore la sua tariffa oraria dove posso attingere a questa fonte cioè devo chiedere qual è la fonte un consulente del lavoro io ti posso tranquillamente rispondere proprio un tema che affronteremo domani per ora sbrigativamente ti anticipo dipende se è un professionista esterno se è un professionista esterno con partita IVA si atterrà un tariffario che è quello pubblicato dall'ordine degli assistenti sociali tipicamente potrebbe essere una persona che ingaggia il progetto o potrebbe essere un... dipende molto dalla tipologia di ingaggio cioè se un professionista con partita IVA si atterrà dei massimi di costo ora mi sembra che gli assistenti sociali abbiano un tariffario così come gli psicologi e quindi io come ricerca trovo tariffario vai sparata sul sito e ti scarichi il tariffario sul che sito del tariffario c'è un sito no 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 sito dell'ordine degli assistenti sociali che tra l'altro non si chiama neanche ordine ma si chiama albo degli assistenti sociali e quindi questo poi fa riferimento a tutti gli educatori a quello che poi può essere le varie sugli educatori non c'è un tariffario perché hanno un'associazione non hanno un albo e lì vale molto lo storico domani ne parliamo vale molto lo storico cioè quanto l'ha pagata tipicamente ok grazie va bene ok torniamo un attimino sul che ore sono? 11 meno un quarto va bene abbiamo ancora una mezz'ora allora vediamo come è fatta una VBS una VBS ha due rappresentazioni una grafica e una testuale io qui ve le ho messe tutte e due vedete che sulla sinistra della diapositiva c'è la rappresentazione testuale che è quella che noi tipicamente riportiamo nel nostro documento di progetto e c'è la rappresentazione grafica la rappresentazione grafica come vedete è una scomposizione costituzione e struttura per persone con disabilità della casa famiglia è più chiaro così esatto realizzazione del piano di gestione ristrutturazione immobile la ristrutturazione immobile come vedete c'è una sottoroutine lavori murali e arredamento l'arredamento c'è ancora una sottoroutine arredi interni arredi esterni perché abbiamo voluto essere un po' particolarmente pignoletti questo tipo di rappresentazione grafica si traduce automaticamente in una rappresentazione viceversa più discorsiva che come vedete è rappresentata a sinistra guardate la ristrutturazione immobile 1.2 ristrutturazione immobile 1.2 1.1 lavori murali 1.2 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 1.2.2 1.2.2 ad usum come dire di didattica nei fatti è difficile che i nostri progetti superino una scomposizione su tre livelli è abbastanza raro in genere abbiamo pacchetto attività attività sotto attività ripeto io l'unica indicazione che do è di tipo di sforzo organizzativo poi se è necessario viceversa sotto specificare lo potrete sapere soltanto vivendo soltanto scrivendo i vostri progetti capirete su che livello bisogna scendere una domanda estemporanea diciamo però credo significativa questo è un metodo sì per quanto riguarda la progettazione sociale insomma utilizzato no la progettazione ma è l'unico metodo perché giustamente mi sembra abbastanza tecnico è molto no sai devi dettagliare tutto devi avere 1.1 1.2 1.3 1.4 6.8 10 e ce ne sono altri meno tecnici tra virgolette altrettanto validi o è solo e solamente questo il più valido che in base anche alla tua conoscenza ma questo è lo standard di riferimento non è vi può sembrare tecnico in realtà è abbastanza semplice ho visto piani molto più complessi di questo molto più articolati immaginate pianificazioni aziendali che riguardano centinaia di progetti la storia dell'associazione italiana progettisti sociali nasce dall'incontro di alcuni progettisti sociali che si sono sempre occupati di sociale e alcuni colleghi che operano in aziende molto grandi dell'information communication technologies abituati a gestire da anni strutture per progetti a livello multinazionale cioè la complessità non è paragonabile i criteri sono molto simili non mi risulta ci siano altre metodologie di scomposizione dell'attività in realtà ce ne possiamo inventare l'importante è che rispondiamo dei requisiti di rigore logico sai cosa nel momento in cui magari tu hai un discorso di un gruppo che deve lavorare si deve dare da fare e devi andare a trattare problematiche sul campo umanissimo problemi disabili ovviamente questo tipo di progettualità la fai per un discorso di presentazione per un bando un qualcosa però nel momento in cui hai un gruppo di lavoro che deve affrontare una problematica di un ragazzo di un qualcosa ovviamente non stai lì a individuare tipo istruzioni per l'uso fare A fare B fare C voglio dire c'è un discorso tecnico e un discorso pratico cioè da un lato tu hai la presentazione di un qualcosa di documentazione dall'altro hai l'operatività non so se mi sono spiegato il problema è che noi come dire questi sono strumenti per una pianificazione che è dentro dei vincoli e dentro dei vincoli di budget è una pianificazione che normalmente utilizza fondi pubblici o fondi privati ma comunque regolati da da committenti che dettono delle regole e quindi hai bisogno degli strumenti di controllo dell'attività altro che se tu stai facendo un progettino informale con degli amici e vabbè io non te lo auguro nel senso che secondo me vale comunque la pena di visto che stai impiegando il tuo tempo e quello degli altri vale comunque la pena di utilizzarlo in modo migliore devo dire che tempo addietro 6-7 anni fa lo SPRAR proprio il servizio centrale organizzò per tutti i progetti della regione Puglia a Bari un'iniziativa di formazione dove la pianificazione fu utilizzata non tanto per la progettazione ma quanto proprio per capire nel gruppo di lavoro quali erano le attività da fare e di chi era la competenza perché anche se tu devi organizzare un incontro per parlare dell'inquinamento puoi anche fare incontro e poi pianifichi le varie attività tu ti devi occupare di chiedere la sala Rita di fare un'altra cosa per cui questo era estremamente utile e ce lo consigliavano al gruppo di lavoro per capire come organizzare il lavoro e chi era responsabile di quell'attività sì io con i miei colleghi con i miei colleghi diciamo di ambito non sociale non non profit ho fatto fatica a farli capire che per noi è molto importante l'aspetto del disegno dell'intervento perché loro spendono pochissime energie in questo cioè spendono molte più energie e risorse sulla gestione del progetto non tanto sul disegno dell'intervento noi bilanciamo per noi è un momento strategico il disegno dell'intervento anche perché significa avere il finanziamento o non averlo quindi non possiamo nasconderci che è un aspetto rilevante l'uso di questi strumenti aumenta anche la nostra efficacia nella presentazione del progetto perché capite che presentiamo dei documenti estremamente chiari estremamente chiari in cui c'è un'identificazione di che cosa vogliamo raggiungere quali sono i nostri risultati e qual è il percorso logico per arrivarci dove va questa roba in che parte del progetto del documento di progetto va questa roba va nella descrizione dell'attività normalmente il capitolo di progetto è analisi del fabbisogno obiettivi risultati descrizione dell'attività nella descrizione dell'attività noi inseriremo un testo con delle opportune glosse per chiarire le attività che sono meno chiare e magari metteremo un paragrafo su una metodologia particolare che impieghiamo prego Antonio se posso ancora una domanda lo vedremo successivamente a questa slide invece per esempio sono interessato nello spacchettamento di punto 1.2 la ristrutturazione dell'immobile rispetto poi là già sono segnate le attività i risultati attesi connessi a questa fase 1.2 all'attività quei risultati li dobbiamo riportare sempre in un blocco logico così anche diciamo visivo oppure viene poi posto in maniera differente no non è necessario identificare a livello di sotto attività la deliverable non è indispensabile è molto importante identificare i risultati principali attesi dal progetto questi come li riportano vedremo questa slide sto anticipando dei tempi no 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 proprio non è identificata la deliverable a livello di singola sottofase nella VBS nella VBS nella VBS diciamo del documento di progetto per essere chiari è identificata a livello viceversa di questo schema qui perché concide normalmente con con l'attività stessa io avrò un pacchetto una sotto attività ve la faccio vedere cioè è anche la questione di linguaggio Aldo nel senso che dobbiamo stare sempre attenti a conciliare il linguaggio con quello dei nostri committenti se io parlo di Milestone è verosimile che non mi faccia capire e quindi io non uso Milestone diciamo però utilizzando viceversa la logica del project management queste cose qui si chiamano pietre miliari io so che il collaudo è un momento fisico puntuale del progetto no questa è una Milestone non è che devo dire qual è il risultato dell'azione collaudo è questa attività che è il risultato la Milestone del mio piano della mia VBS non so se mi spiego il risultato è questo il risultato intermedio cioè io ho un'identificazione dei risultati principali del progetto non c'è affatto bisogno né sul piano del documento di progetto né sul piano del documento standardizzato che condivido con i miei colleghi di scendere a una identificazione dei sottorisultati è importante identificare le Milestone le Milestone cioè quelle attività particolarmente importanti perché mi dicono quanto resta della notte cioè a che punto sto rispetto al mio progetto ok andiamo un pochettino avanti vi faccio un altro esempio questo è un progetto che sto ah questo se non ricordo male è il progetto della carta dei diritti mi pare questo esempio l'ho preso da lì questo è uno spacchettamento di un singolo pacchetto di attività di ricerca statistica allora piano della ricerca ovviamente ci deve essere un piano di attività che è preparazione della ricerca statistica la carta dei diritti con disabilità è un progetto che si porta dietro l'esigenza di fare una rilevazione a livello nazionale sullo stato di adeguamento delle strutture sanitarie rispetto ai diritti stabiliti nella carta mi pare che l'esempio dovrebbe essere questo allora c'è una prima fase che azione numero uno costruzione di un campione statistico quindi censimento e raccolta dei contatti qualificati direzione generale direzione sanitaria ed eventuali ospedali di maggior dimensione in Italia questa è un'attività quanto ci vuole per farlo abbiamo stimato una quarantina di ore di un ricercatore ovviamente di una di un'attività di ricerca sanitaria io ce ne metterei 200 di ore perché non mi sono mai occupato di queste cose definizione dei macroindicatori statistici della ricerca utenza per anno posti letto prestazioni cioè definire dei macroindicatori che poi mi serviranno per stimare le risposte che otterrò dai singoli ospedali 1.2 strumenti di rilevazione formalizzazione delle ipotesi di ricerca questo è il classico flusso di una ricerca sociale dovrò mettere nero su bianco qual è la mia ipotesi di ricerca elaborare dei questionari elaborare uno schema di interviste che farò telefonicamente ai vari referenti predisporre le lettere di presentazione della ricerca tutte azioni abbastanza puntuali anche al di sotto delle 40 ore per scrivere una lettera di presentazione di ricerca ci vorrà un pomeriggio insomma allestimento dell'ambiente web perché la raccolta di dati sarà in modali taccati cioè sia interviste telefoniche che compilazione online di questionari quindi definizione delle specifiche del database progettazione grafica sviluppo del web content cioè dello spazio web e implementazione e lancio della piattaforma ormai ci sono degli strumenti precompilati è abbastanza facile tirare su uno spazio per accogliere le risposte dei questionari e definizione eccetera eccetera questo è uno spacchettamento di un singolo work package funziona funziona così è abbastanza lineare ecco vedete ve lo rappresento anche sotto forma di grafico vantaggi ve l'ho anticipati la WBS ci aiuta a definire le responsabilità di un team perché su ogni attività una delle cose che noi ci diremo è chi fa cosa definisce la struttura di un'organizzazione di lavoro permette il coordinamento fra gli obiettivi abilita il controllo facilita il controllo dei costi che è un aspetto fondamentale la pianificazione e soprattutto ci aiuta a gestire i rischi perché ci porta a fare un'analisi di rischi diciamo non a livello molto generale e macro ma potenzialmente possiamo fare un'analisi di rischi di cui non parleremo in questi tre giorni ma sarebbe un tema stimolante a livello di singola sotto attività o perlomeno a livello di pacchetto di lavoro cioè posso capire per ogni pacchetto di lavoro quali sono i rischi i coefficienti di rischio questo ce lo siamo detti io andrei un pochettino avanti criteri fondamentali la WBS deve essere consistente coerente coerente a cosa? coerente ai risultati ovviamente orientata all'attività o a un risultato concreto non deve essere fumosa la WBS per definizione deve essere molto concreta e specifica scomposta fino al giusto livello di controllo al proprio livello di controllo scomposta per un numero finito di sotto attività e ogni attività deve essere come dire smart questo insopportabile acronimo cioè specifico misurabile concordata realistica e definita del tempo così come gli obiettivi e così come i risultati problemi sì scusami ok posso andare avanti questo l'abbiamo già visto ve lo dicevo non bisogna non bisogna cioè è un canovaccio una WBS è un canovaccio poi si recita poi qualcuno andrà in scena non dobbiamo dirgli tutto dobbiamo dirgli le cose essenziali linee guida per allestire una buona WBS no? quello che dobbiamo fare alla fine quando l'abbiamo stesa magari ci abbiamo messo mezz'ora un'ora a stendere una WBS alla fine ci dobbiamo chiedere risponde allo scopo generale del mio progetto cioè mi assistere a raggiungere l'obiettivo identificare tutte le maggiori attività che devono essere completate cioè non è che mi sono perso per strada qualcosa che è Rita? no perché mezz'ora un'ora è proprio che viene e non c'è ma dipende no Rita no io non credo perché dipende molto dalla complessità del progetto a volte i nostri progetti non è che siano complicatissimi cioè può capitare anche dover pianificare il progetto che dura due mesi che dura tre mesi che magari tre pacchetti di attività la prima volta si hai ragione tu diciamo oddio ma che vuole questo venuto da Roma questo rompiscatola che viene da Roma quando ci prendi la mano ripeto è un po' ieri diceva ai tuoi colleghi tu non c'eri è un po' come suonare la chitarra la prima volta anche per fare un mi minore ti impicchi col tempo ci prendi la mano e diventa un'operazione abbastanza rutinaria fai fatica quando i progetti sono radicalmente nuovi cioè io quando mi muovo sul nodo e vabbè ma insomma non mi sconvolge io mi preoccupo quando devo affrontare ambiti di competenza che non ho il che peraltro rende particolarmente appassionante il nostro lavoro perché ci costringe a imparare cose nuove quindi dividere ogni attività in piccoli compiti che ne permettano il completamento fino a raggiungere il livello prefissato vi richiamo in particolare l'ottavo punto perché è un accorgimento di redazione dei nostri documenti di progetto corredare la nostra VBS di un dizionario dettagliato cioè che cosa vuol dire che a volte la VBS capite che è un documento sintetico a volte è troppo sintetico tanto sintetico che non si capisce allora eliminiamo dai nostri documenti la maledetta abitudine degli acronimi che non ci fanno capire che cavolo perché non si sa perché il terzo settore abbonda di acronimi e a volte questo rende poco comprensibili i nostri documenti o se proprio dobbiamo usarli mettiamo usiamo i classici operatori aperta parentesi d'ora in poi che ne so GLH mettiamo la definizione GLH e d'ora in poi GLH e così via e a volte un'attività la indichiamo in maniera molto sintetica allora apriamo parentesi magari dentro l'attività e spieghiamo di cosa si tratta cioè che cosa faremo in quell'attività vi faccio un esempio torniamo su quello che vi facevo vedere prima vedete che qui io mi sono diffuso un po' di più perché questo documento doveva essere letto da qualcuno costruzione del campione statistico censimento e raccolta dei contatti qualificati aperta parentesi direzioni generali direzioni sanitarie dei 21 ospedali di maggiore dimensione aperta parentesi per utenza nell'anno e bacino potenziale in Italia perché? per chi l'ho fatto questo lavoro supplementare non per me ma per chi doveva leggere questo VBS e doveva capire cosa stavamo facendo un repertorio che possiamo utilizzare addirittura alla fine del VBS mettere anche un glossario un piccolo dizionario che richiami termini più ricorrenti note generali la VBS non è un oggetto statico non sono le leggi scolpite nella pietra di Mosè è un documento in progress cioè un disegno iniziale di VBS che si modificherà facciamoci pace e la nostra abilità sarà a gestire il cambiamento della VBS così come sarà gestire il cambiamento del quadrologico vedete che è il quadrologico di cui abbiamo parlato ieri e su cui ci continueremo a esercitarci oggi pomeriggio e la VBS sono strumenti dinamici l'importante è che i cambiamenti non siano incontrollati ma vengano di volta in volta registrati e questo ve lo dicevo prima la VBS è un documento strategico fondamentale per la schedulazione e soprattutto per la paggettizzazione la monetizzazione la quantificazione delle risorse sia professionali che economiche che il nostro progetto assorbirà impossibile fare pianificazione economica se non ho una chiara identificazione delle attività previste nel mio progetto bene andiamo avanti quali sono delle tecniche di rappresentazione dei tempi di progetto finora abbiamo parlato soltanto di scomposizione delle attività non di distribuzione temporale delle attività quando noi abbiamo identificato le attività che è necessario svolgere segue un'altra istanza fondamentale cioè definire in che tempi queste attività vengono distribuite ed eseguite tipicamente ricordiamoci sempre che il nostro progetto agisce in un flusso temporale è ben preciso inizia al mese X e finisce al mese Y dura 12 mesi dura 8 mesi in quell'arco temporale deve concentrare il suo sforzo consegnare i risultati a chi ti deve avere e maturare il suo obiettivo il che vuol dire che io ho una catena di eventi una catena di attività che si susseguono e possono susseguirsi in modo abbastanza diverso possono essere conseguenti nel senso che non posso fare B se non ho fatto A oppure possono essere parallele cioè posso fare A e nel frattempo fare C ci sono due strumenti di schedulazione temporale di pianificazione temporale uno molto comune e sempre più richiesto normalmente lo chiamano cronoprogramma lo avrete trovato probabilmente molto formulari il cronoprogramma il cronoprogramma in realtà è il grafico di Gant Gant era un signore non è un acronimo era il signor Gant un ingegnere che applicò questo strumento di pianificazione alle grandi opere di mi pare del New Deal in America che cos'è il grafico di Gant andiamolo a vedere essenzialmente è un histogramma che ore sono? 11 e 10 quindi ho 20 minuti io ci tengo davvero a farvi vedere il programmino il software è un histogramma semplicemente in cui come vedete sulla sinistra io ho riportato la mia WBS vedete che c'è fase 1 fase 2 l'istrutturazione dell'immobile 2.1 lavori murari 2.2 arredamento poi arredamento ho 2.2 1 arredi interni 2.2 2.2 arredi esterni sulla destra io ho una tabella in cui ci sono dei numeri e quei numeri sono i mesi quindi sarà sesto mese del 2009 cioè giugno ogni barra è una barra temporale cioè mi dice quanto dura nei mesi di riferimento del progetto quella attività abbiamo poco tempo quindi non mi perdo in chiacchiere vi faccio vedere il programma che potete utilizzare è open source e si chiama Gant Project lo scaricate da gantproject.biz gantproject.biz è estremamente semplice è fin troppo semplice da un certo punto di vista vediamo se si riesce a vedere decentemente ci sono vari programmi di pianificazione di progetto uno molto comune è ovviamente di casa Microsoft sarebbe Project di Microsoft più articolato e complesso poi c'è Project che è semplicissimo serve per fare Gant e poi una famiglia di altri prodotti per fare anche rappresentazioni più sofisticate vediamo un attimino gli aspetti essenziali immaginate che io debba scrivere il progetto Pippo Super Pippo che ne so realizzazione casa famiglia proviamo a prenderci l'esempio di prima cioè l'esempio relativo alla ricerca statistica allora comincio a scrivere una prima attività attività nuova attività posso utilizzare anche ctrl t ctrl t nuova attività realizzazione campione statistico ok io vi sto facendo vedere il programmino ovviamente non è indispensabile usare il programmino cioè potete fare una tabellina Excel tanto facile facile bellina viene uguale anzi a volte io lo faccio perché forse graficamente è anche più carino cioè con Excel riesci da un punto di vista cosmetico a fare dei prodotti più accattivanti potete farlo in Word potete farlo a mano libera come vi pare il vantaggio di un software è più perché vi calcola automaticamente i tempi e quindi vi fa vedere prima è meglio i vincoli che potreste non cogliere quando quando lo fate a mano libera diciamo realizzazione campione statistico io qui non metto i tempi perché non metto i tempi perché io so che questa non è una singola attività questo è un gruppo d'attività è un identificatore è sovradimensionata si dice tecnicamente che sono indentate altre attività sotto questo livello e quindi vado ad aggiungere un'altra attività che sarà censimento lo metto breve censimento censimento contatti so che è una sottoattività e quindi faccio tab cioè sposto avanti col cursore posso farlo anche con questo se volete con questa freccetta vedete qui la porto sotto vedete che adesso qui c'è un segno meno vuol dire che sotto realizzazione del campione statistico c'è censimento contatti se faccio così l'ho rinchiusa dentro allora censimento contatti censimento contatti so che è una singola sottoattività e quindi gli darò una durata temporale precisa che sarà lo faccio direttamente senza andare nella tabella diciamo che inizia il 6 novembre 2013 e lo facciamo finire il 6 ci prendiamo il 15 dicembre 2013 15 novembre 2013 qui riduciamo così lo vedete bene ok aggiungo un'altra attività adesso per sbrigarci realizzazione questionari realizzazione questionari lo faccio iniziare il anzi facciamo finta che realizzazione questionari anzi non facciamo proprio finta niente andiamo un attimo a prendere l'esempio di prima aggiungiamo un'attività che chiameremo chiameremo contatto delle strutture ospedaliere ok allora realizzazione questionari lo abbiamo fatto iniziare un po' prima lo facciamo finire sempre il 15 novembre ok vedete che automaticamente realizzazione campione statistico si è preso le date che sono la somma di tutte le date delle sottoattività per ovvie ragioni quindi voi non toccherete mai la data dell'attività sovra indentata sovra gerarchizzata toccherete soltanto le date delle sottocomponenti perché altrimenti farete casino contatto delle strutture ospedaliere ora in questo caso con questo software posso fare una cosa che nella rappresentazione a mano non posso fare cioè posso dire che censimento contatti e contatto delle strutture ospedaliere sono attività collegate cioè non posso fare questa se prima non ho fatto questa che cosa vuol dire in termini temporale che io potrò iniziare l'attività contatto delle strutture ospedaliere soltanto quando avrò completato il censimento dei contatti quindi le evidenzierò tutte e due scusate con control così e utilizzerò questo strumento collega attività che cosa succede? che automaticamente la data diventa 18 perché 18? perché 15 probabilmente è un venerdì quindi è impostato che il sabato e la domenica nei mondi normali non si lavora nel nostro mondo no si lavora anche il sabato e la domenica e questo è un problema paradossalmente questo è un limite di questo software è un po' rigido ma tipicamente organizzazioni come le nostre che sono spesso organizzazioni di volontariato che lavorano nel tempo libero ahi noi viceversa fanno fatica a stare dentro questo tipo di rigidità di programmazione perché l'unità di misura non sono le 40 ore lavorative comunque a ogni buon conto mi interessava farvelo vedere perché soltanto mettendoci le mani si capisce la logica allora un Gant essenzialmente è questo ci dà delle informazioni interessanti ci dice come sono distribuiti i tempi ci dice se stiamo esagerando cioè se noi vediamo che su novembre rappresentiamo 50 attività tutte in parallelo è quasi sicuro che staremo sovrallocando risorse umane questo strumento in realtà ci consente anche di fare questo calcolo cioè vedete che c'è diagramma risorse in diagramma risorse in ogni attività posso andare anche a imputare le persone che ci lavorano e quindi automaticamente mi direbbe oh occhio perché tu in questa settimana una stessa figura la sta facendo lavorare 200 ore ma il suo monterario è 40 non bisogna arrivare a questo livello di finezza diciamo che già soltanto rappresentarci graficamente ci dà l'idea e la misura se stiamo sforando completamente un piano di allocazione di attività in uno stesso arco temporale vorrei chiudere perché il tempo è veramente di ranno ma è importantissimo che viceversa ne parliamo velocemente posso chiudere? vorrei andare velocemente avanti sono 11.20 quindi ho veramente poco tempo a farvi vedere l'altro strumento di pianificazione meno richiesto normalmente non ve lo richiedono nei documenti di progetto questo sì il cronoprogramma ormai lo trovate quasi sempre difficilmente vi chiedono il PERT il PERT il PERT non è un acronimo e non è scusate un signor PERT come il Gant è un acronimo è Project Evaluation and Review Technique Project Evaluation and Review Technique che cos'è? è una tecnica di pianificazione il cui risultato è un diagramma di flusso una rappresentazione non più a barre ma lineare il PERT è un tipo di rappresentazione di tecnica di pianificazione molto utile perché ci fa vedere delle cose che il Gant non ci fa vedere il Gant ci dice come sono distribuite le attività in un processo temporale ma ci dà normalmente scarse informazioni sui collegamenti delle attività sui collegamenti logici cioè sui precedenti di un'attività i susseguenti di un'attività e i percorsi critici che è l'ultima cosa che vorrei toccare con voi prima di chiudere questo modulo che cosa dobbiamo fare per scrivere un PERT anzitutto dobbiamo avere la VBS disporre le attività secondo criteri di precedenza cioè decidere che cosa viene fatto prima e che cosa viene fatto dopo stimare la durata delle singole attività eventualmente anche con chi le deve fare quelle attività gli esperti sono chi quelle cose le deve fare quindi non diciamo all'altro a volte sì dobbiamo dirglielo un po' però dobbiamo anche dialogare con lui la durata della sua attività e riaggiustare le stime soprattutto temporali cioè compileremo una tabella come questa che vedete attività qui mettiamo tutte le attività del nostro progetto attenzione il nostro progetto ha attività distribuiti su tre livelli almeno ci sarà un livello macro il livello dei WP dei work package e il livello delle attività potremmo avere anche il livello delle sotto attività noi dobbiamo scegliere nella rappresentazione PERT differentemente da come facciamo nel GANT il nostro livello di rappresentazione cioè nel GANT nel PERT le attività sono tutte su uno stesso livello allora dobbiamo decidere se rappresentare il livello dei work package il livello delle attività o il livello delle sotto attività facciamo una fuga in avanti questo per esempio è un PERT per sotto attività per sì per sotto attività vedete che non sono nominati WP in realtà lo sono vedete questa striscia rossa questa parte qui in basso in rossa vedete che è tratteggiata è tratteggiata perché quella in effetti è un work package io avrei potuto in un progetto molto più ampio articolato fare una rappresentazione per work package cioè non scende a livello di sotto attività magari io avevo 20 work package e li distribuivo in termini temporali e questo è un punto allora compiliamo dopo aver scelto il livello di rappresentazione compiliamo la nostra tabella di tutte le attività appartenenti a un medesimo livello diremo vabbè il nome dell'attività è il numero identificativo 1 1.1 eccetera eccetera l'attività che precede il tempo necessario ed eventualmente le risorse che alloghiamo questo eventualmente possiamo anche non farlo quindi cominciamo a rappresentarle da sinistra verso destra mediante un reticolo sostanzialmente come si dispongono le attività le attività possono disporsi in due e due soltanti modi o in successione cioè devo fare prima A per fare B e devo fare B prima di fare C devo prima fare un censimento farmi una database dei contatti per sentire per poi contattare gli ospedali e potrò raccogliere i dati solo dopo che ho contattato gli ospedali e somministrato i questionari in questo caso ho un flusso che A, B, C oppure possono essere in parallelo cioè posso lavorare sul campione statistico mentre allestisco il campione statistico predispongo i materiali della ricerca quindi io posso generare delle routine che sono fatte in questo modo ho un punto di partenza normalmente si mette sempre il kick off cioè punto di avvio del progetto e quindi comincerò a distribuire le mie attività vedete che in questo caso ho in blu in giallo e in rosso sostanzialmente tre pacchetti di lavoro tre work package nel primo work package c'ho un unico WP in cui ci sono due attività parallele nel secondo WP quello giallo c'ho quattro sottoattività di cui due parallele e tre lineari nell'ultimo WP c'ho quattro attività tutte in batteria diciamo tutte in linea questo tipo di percorso è particolarmente importante da monitorare perché il cosiddetto percorso critico ogni attività viene definita per un tempo minimo un tempo massimo e adesso mi uccidete ma tra un pochino chiudiamoci andiamo a pausa un tempo di slack allora un tempo minimo è il tempo minimo che quella è veramente la palestiano che quell'attività impiega può impiegare il tempo massimo e normalmente coincide con il tempo che abbiamo definito noi all'inizio di progetto definiamo che quell'attività dura dieci giorni quindi qual è il suo tempo minimo dieci giorni qual è il tempo massimo dell'attività il tempo massimo dell'attività è la durata ovvero il ritardo fondamentalmente la durata che quell'attività può avere senza generare un ritardo sull'intero progetto o perlomeno sul raggiungimento del nodo successivo il nodo successivo è avvio ricerca in questo caso questo è uno spacchettamento in realtà non è l'intero progetto ma è un pezzetto una focalizzazione di una parte di progetto avvio ricerca ovviamente è il progetto che continua allora come si calcolano queste variabili tempo minimo non si calcola è il tempo che ho inserito nel progetto tempo massimo il tempo massimo è la differenza fra il tempo minimo e il tempo minimo dell'altra attività parallela o dell'altro gruppo di attività parallele concentriamoci sul work package blu questo che vedete qui c'è un censimento che dura 14 giorni la costruzione degli indicatori della ricerca dura 7 giorni qual è il ritardo massimo il tempo massimo della fase indicatori il tempo massimo 14 perché la differenza di 14 giorni che è il tempo minimo di censimento è il tempo minimo di indicatori che è 7 quindi 14 meno 7 è 14 cioè è uguale al tempo minimo dell'altra attività 7 è il tempo di slack cioè il ritardo massimo che quell'attività può ottenere senza generare ritardi sul raggiungimento del nodo successivo o sulla consegna dell'intero progetto ma è il territorio censimento proprio sì cioè la differenza prestata da un indicatore la indicatore e accessione quella è la slack esatto la slack è la differenza tra il tempo minimo e il tempo massimo di un'attività censimento cioè tempo minimo uguale 14 tempo massimo uguale uguale 14 censimento uguale 14 cioè tempo minimo e tempo massimo uguali 14 14 meno 14 0 quindi a tempo di slack uguale 0 ritardo uguale a 0 quindi è un percorso critico perché se io ritardo il censimento ovviamente avrò un ritardo sulla consegna dell'avvio della ricerca se io ho un ritardo di due giorni sulla costruzione di indicatori vabbè pazienza l'importante è che in 14 giorni io comunque consegno quella parte di lavoro legata agli indicatori allora nei nostri progetti è fondamentale e normalmente non lo facciamo identificare i percorsi critici qual è la madre di tutti i percorsi critici in questa diapositiva che vedete l'attività marcata in rosso perché lì io ho tutte attività lineari e tutte con tempo di slack uguale a 0 perché ovviamente ogni attività deve produrre risultati per quella successiva se io ho un ritardo di un solo giorno produco un ritardo sull'intero raggiungimento del nodo successivo quindi è il tempo di ritardo massimo slack esatto slack tempo di ritardo massimo tempo minimo andiamoci proprio andiamo in modo di da scalico il tempo minimo è il tempo inizialmente previsto entro il quale ci si attende di completare un'attività il tempo massimo è il tempo massimo che può impiegare un'attività o un gruppo di attività senza comportare ritardi sul raggiungimento ed è dato dalle differenze tra il tempo delle altre attività o gruppo di attività parallele per raggiungere un comune nodo di progetto e il tempo minimo previsto per l'attività o gruppo di attività tempo di slack è il margine di tempo di ritardo di cui gode un'attività per essere complotata senza comportare ritardi sul raggiungimento del nodo successivo ed è la differenza tra il tempo massimo e il tempo minimo il percorso critico è il percorso di progetto in cui si sommano più attività avente tempo di slack uguale a zero è un concetto soltanto semanticamente ma in realtà molto semplice da capire è abbastanza utile in fase di gestione perché capire nel mio progetto qual è il percorso critico mi porterà ad avere più controllo su quella fase temporale che è esattamente il problema per cui i nostri progetti a volte ritardano hanno problemi ritardano vuol dire hanno costi anche superiori all'attesa e alle aspettative quanto tempo abbiamo? zero tempo di slack uguale a zero allora io saluto e ringrazio chi si è collegato in streaming per l'ascolto paziente per i colleghi in streaming ricominciamo domani alle ore 9 col modulo sul budgeting e la rendicontazione noi andiamo in pausa i sordi noi ci vediamo all'una e mezza esatto sì grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti